Siamo da Gesù Cristo. Oggi è il martedì 15 giugno. Preghiamo. Ascolto, Signore, la mia voce. A Te grido. Sei Tu il mio aiuto. Non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio, della mia salvezza. O Dio, fortezza di chi spera in Te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il Tuo aiuto, soccorrici sempre con la Tua grazia, perché fedeli ai Tuoi comandamenti, possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vogliamo rendervi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa le chiese della Macedonia, perché nella grande prova della tribolazione, la loro gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Posso testimoniare infatti che hanno dato secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente, domandandoci con molta insistenza la grazia di prendere parte a questo servizio a vantaggio dei Santi. Superando anzi le nostre stesse speranze, si sono offerti prima di tutto al Signore e poi a noi, secondo la volontà di Dio. E come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. Non dico questo per darvi un comando, ma solo per mettere alla prova la sincerità del vostro amore, con la premura verso gli altri. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Parola di Dio Loda il Signore anima mia Loda il Signore anima mia Loderò il Signore finché ho vita Canterò inia al mio Dio finché esisto Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe La sua speranza è nel Signore suo Dio Che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene Chi rimane fedele per sempre Rende giustizia agli oppressi Dà il pane agli affamati Il Signore libera i prigionieri Il Signore ridona la vista ai ciechi Il Signore rialza chi è caduto Il Signore ama i giusti Il Signore protegge i forestieri Alleluia, alleluia Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri Alleluia Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Avete inteso che fu detto Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico Ma io vi dico Amate i vostri nemici E pregate per quelli che vi perseguitano Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli Egli fa sorgere il suo sole Sui cattivi e sui buoni E fa piovere sui giusti e sugli ingiusti Infatti, se amate quelli che vi amano Quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli? Che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti Come perfetti il Padre vostro celeste Parola del Signore Preghiamo La partecipazione ai tuoi santi misteri O Signore Come prefigura la nostra unione in te Così realizzi l'unità nella tua Chiesa Per Cristo nostro Signore Il Signore sia con voi Vi benedichi il Signore potente Padre, Figlio e Spirito Santo Amen Glorificate il Signore con la vostra vita Andate in pace Pace e bene Una santa giornata nel Signore Una santa giornata nel Signore